Cosa succede oggi tra meno di mezz'ora? In un tweet, Fiano. Inizia un dialogo difficile ma che secondo me può avere un esito positivo. Allora, grazie Emanuele Fiano, grazie Daniela Santanchè, Pietro Salvatore e Gaetano Pedullà. Linea al telegiornale, vedremo lunedì e io vi aspetto in diretta dalle 11 se quel dialogo ha portato a qualcosa. Vi aspetto, buon weekend.